Si chiama Notte di Paesaggio ed è il progetto che racchiude in sé una variegata serie di eventi già in realtà avviati a partire dalla fine di settembre. Soggetto capofila, la comunità montana Valtellina di Sondrio, partner 19 comuni oltre alle quattro università di Milano, Torino, Bologna e Bergamo, assieme a Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per una iniziativa che rientra nel progetto pilota denominato Le Radici di un'identità. Mettere assieme cultura, spettacolo, arte e paesaggio, favorendo la riscoperta di quei luoghi a serio rischio spopolamento, è possibile ma è necessario favorire un processo di conoscenza che parta dalle radici storiche di quei luoghi che proprio attorno a noi furono teatro tra preistoria e medioevo di un fondamentale processo di sviluppo lungo questo particolare territorio alpino. Saranno interessati quei comuni nei quali si è svolta l'attività legata al progetto Le Radici di un'identità, una serie di incontri con le comunità per spettacoli ma anche per presentare lo stato dell'arte e quindi i lavori, gli studi fin qui compiuti che consentiranno alle comunità dei vari paesi di poter conoscere a che punto sono arrivati gli studi quale scoperte sono state fatte e soprattutto sarà l'occasione per condividere con le comunità gli studi fin qui compiuti e finché diventino di dominio pubblico di condivisione con i singoli paesi. E così Fusine, Cedrasco e poi Spriana, Sondrio e Caspoggio, Berbenno e Chiuro saranno gli scenari di una serie di appuntamenti che accompagneranno turisti e residenti in un cammino di conoscenza e di approfondimento che scalderanno i fine settimana di questo autunno. Prossime fermate i comuni di Fusine e di Cedrasco rispettivamente domani, sabato 9 ottobre e domenica 10. Ci saranno diversi momenti caratterizzati da una visita a una fucina che verrà aperta per l'occasione e ci sarà un giovane fabbro che farà vedere a chi vorrà partecipare una lavorazione appunto del ferro. Un convegno sempre al mattino con l'Università di Torino, il professor De Vingo, che ha seguito in tutto il suo itinerario il percorso di radici di un'identità, insieme al direttore scientifico Rita Pezzola. Noi abbiamo scoperto queste particolarità attraverso le ricerche che ha fatto Pier Giovanni Damiani, ricerche molto minuziose che hanno portato anche alla stesura di un libro dove viene rappresentata la vita e gli angoli più caratteristici del paese nel periodo medioevale. Ci saranno mattino e pomeriggio delle visite guidate e speriamo di trasmettere questo interesse anche a tutti coloro fuori dal paese che vanno a partecipare alla manifestazione. Il weekend del 16 e 17 ottobre poi a Spriana il teatro più piccolo del mondo. Qui una casa rurale recuperata dal cantiere didattico del progetto Radici diverrà l'intimo scenario per esibizioni teatrali con un numero massimo di 5 spettatori. Il 13 novembre poi altro appuntamento a Berbeno di Valtellina. Una presentazione al pubblico dei risultati degli studi condotti dall'Università degli Studi di Bergamo e dal Politecnico di Milano. E una seconda parte in cui invece è aperta solamente agli stakeholder del territorio, quindi ai tecnici che lavorano sul territorio, alle aziende che operano nel campo edile, ai viticoltori eccetera, che appunto pensavano di aprire una tavola rotonda in cui confrontarci sulle problematiche relative al recupero del borgo.